Con mister Federico Coppola al termine dell'undicesima giornata di Serie C Now, Provercelli, Arzignano Valchiampo, 3-0 per i gialli o celesti, il risultato è il treplice fischio. Mister, complimenti a tutta la squadra e partirei subito con le domande del giornale di Vicenza. Ti chiedono, un Arzignano che trova tre gol e porta a casa tre punti pesanti contro una diretta avversaria, quanto serve soprattutto per il morale? Serve tantissimo perché è stata una vittoria cercata, voluta, meritata e ci portiamo a casa tre punti fondamentali per il nostro percorso. Tre gol ma anche porta inviolata grazie alla difesa ma anche un gran Elia Boseggia. Sì, è stata fatta una partita eccezionale da parte di tutti, ho ricordi degli attaccanti che hanno fatto delle corse incredibili per dare una mano al centrocampo, alla difesa, perciò non abbiamo preso gol ma è un po' merito di tutta la squadra. Ripercorriamo quindi mister il match? L'abbiamo approcciata bene, già dai primi minuti si vedeva che eravamo in partita, è stato fatto un ottimo lavoro nella testa dei ragazzi che hanno capito il momento, che è delicato e questa vittoria qua ci deve dare una spinta e farci credere nel lavoro che stiamo facendo. Proseguiamo con le domande del giornale. Mister Bianchini aveva chiesto solidità, come siete riusciti in queste due settimane di lavoro a dare questa impronta alla squadra? Con il lavoro quotidiano, con il parlare, con dare dei consigli e poi portare questi consigli sul campo, nel quotidiano, nel lavoro e è lì che poi è nata questa vittoria, è tutto lì. Da Boseggia a Neppi, tutti i reparti hanno lavorato compatti, sbagliando poco o nulla, prosegue. Cosa ti è piaciuto di più mister? Ma la compattezza, la voglia di non prendere gol, sono giorni che il mister chiede questo, di sacrificarsi uno per l'altro, di fare una cursa in più, dell'atteggiamento giusto e penso che stasera si è visto questo in campo. Una vittoria che apre una settimana delicata può essere un punto di ripartenza, soprattutto per ritrovare fiducia e convinzione nelle capacità di questa squadra. Pur consapevoli, dice che c'è ancora tanta strada da fare. Sì, sì, il percorso è molto lungo. La vittoria di oggi ci dà morale, ci deve dare una spinta, ma i ragazzi lo sanno, tutti noi sappiamo che è una vittoria importante, ma non abbiamo fatto ancora niente. Siamo molto felici, i ragazzi sono stati bravissimi, vanno fatti i complimenti, però il percorso è davvero lungo. Ti chiedono sul finale una domanda su Gianluca Barba, come sta? Ma la partita è finita da pochi minuti, adesso c'è lo staff medico che sta guardando il ragazzo, bisogna comunque aspettare domani mattina la ripresa degli allenamenti, ci diranno l'entità dell'infortunio. Speriamo che non sia niente di grave. Chiudiamo con la settimana che ci aspetta, appunto questa vittoria, questi tre punti importanti ci portano al turno infrasettimanale di martedì, quindi si torna subito a lavorare proprio per preparare le prossime due partite in realtà, anche se la nostra idea è quella sempre di guardare giorno per giorno, però diamo uno sguardo alla settimana di lavoro. Sì, sì, adesso dopo pochi giorni c'è subito un'altra partita molto importante, domani mattina ci troviamo subito, bisogna recuperare le energie fisiche, mentali e archiviare questa bella vittoria di questa sera perché poi pochi giorni c'è un'altra partita super importante dove cercheremo di fare il meglio possibile e non lasciare nulla al caso. Complimenti a tutti e grazie a mister Federico Coppola. Grazie a voi. Nella sala stampa dello stadio Silvio Piola di Vercelli con il nostro attaccante Alessio Neppi, autore della prima rete giallo celeste che ha sbloccato la partita e autore del suo secondo gol in maglia 90. Alessio, grazie e complimenti, parto subito con le domande del giornale di Vicenza. Secondo gol in giallo celeste appunto, ma questa volta ha tutto un altro sapore. Cosa significa in primis per te e poi ti chiedo non si ha una dedica. Ok, allora è stato veramente importante uscire da questo campo con tre punti perché in settimana lavoriamo molto e siamo veramente felici tutti quanti che appunto abbiamo portato tre punti a casa che ci servivano come il pane perché ci danno una forza per affrontare le prossime partite che per noi sono molto importanti per fare punti, ci dà consapevolezza e ci dà forza, ci dà una boccata d'aria molto importante. Sono contento appunto che il gol è servito per portarci sull'1-0, poi abbiamo tenuto veramente bene, poi abbiamo chiuso la partita col gol del 2 e del 3-0. Questo gol lo dedico alla mia ragazza che oggi compie gli anni e sono molto contento di fare questa dedica per il suo ventesimo compleanno. Metto in stand by le domande del giornale di Vicenza e adesso ripartiamo dal match, cioè raccontiamo che partita è stata. Sì, in settimana col mister ci siamo preparati veramente molto bene per affrontare questa partita, questa squadra che ha delle ottime individualità e l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Siamo stati bravi a sfruttare subito l'occasione lì del primo tempo dell'1-0, poi siamo stati compatti, abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo vinto dei duelli, abbiamo vinto dei contrasti. Appunto quello che ci ha chiesto il mister in settimana. Poi siamo ripartiti molto attenti, sempre concentrati, cattivi sui duelli. Fortunatamente è arrivato il gol sul calcio d'angolo che proviamo in settimana, che è stato uno schema ed è riuscito bene col gol di Boffelli. Poi sono entrati i ragazzi dalla panchina che sono entrati veramente bene, ci hanno dato una mano, che siamo usciti io e Albe, che abbiamo fatto una gara dispendiosa anche a livello fisico. Sono entrati Mattioli e Jack, abbiamo fatto bene e appunto con la combinazione ci ha portato al gol del 3-0. I ragazzi che entrano dalla panchina e i ragazzi che giocano, come ci dice il mister, sono veramente importanti per la squadra e per il gruppo. E siamo veramente molto contenti di uscire da qui con tre punti che, come ho detto prima, ci danno veramente una boccata d'aria per affrontare le prossime partite. Non abbiamo fatto niente, c'è una montagna da scalare, però siamo veramente contenti per questi tre punti che per noi valgono tanto, valgono molto. Perché quando sei una situazione del genere, che in settimana ti alleni, curi ogni minimo particolare e poi finalmente oggi abbiamo avuto i frutti di questo lavoro. E' veramente bello respirare questa vittoria, così dentro lo spogliatoio, tutti insieme. E questo ci deve dare la forza per affrontare le prossime partite che per noi sono importantissime. Perché dobbiamo fare più punti possibili per uscire da questa zona. Se affrontiamo ogni partita così uniti, compatti, che ci aiutiamo l'uno con l'altro, secondo me possiamo fare punti e possiamo fare risultato. Grazie Alessio. Torniamo alle domande di Anna Fabrello. Una vittoria, appunto, dice, convincente in cui l'Arzegnano ha quasi mai dato l'impressione di vacillare. Quanto conta? In parte l'hai già detto, appunto, hai già anticipato un po' la risposta, ma se hai qualcosa da aggiungere a te. Come ho detto prima, abbiamo fatto una partita maschia, una partita con la soglia dell'attenzione molto alta. Eravamo molto attenti e vigili a ogni minima palla, ogni minimo pallone. Dobbiamo affrontare ogni partita da qui alla fine con questo spirito battagliero che ci chiede l'allenatore e che in settimana cerchiamo di migliorare e di curare. Ti chiedono appunto cosa è cambiato con l'arrivo di Mr. Bianchini e ti chiedono, è riuscito forse a toccare le corde giuste? No, il Mr. con un cambio di allenatore magari porti delle cose nuove, non che il Mr. precedente abbia fatto male o eccetera. Ci ha dato anche delle ottime trame di gioco al Mr. Bruno. Però con l'arrivo di questo nuovo allenatore ci ha portato magari più cattiveria e più cattiveria agonistica positiva per affrontare le partite perché è una squadra come noi che ci si deve salvare, deve mettere al primo posto il livello agonistico che oggi abbiamo messo veramente molto bene in campo. Ho detto, ripeto, non abbiamo fatto niente perché non abbiamo fatto niente, però questi tre punti ci servivano veramente tanto per darci consapevolezza e forza per affrontare le prossime partite dove noi ci giochiamo alla salvezza. Chiudono con una domanda rivolta a te Alessio nello specifico, per te appuntare una partita da ex. Come per tutto l'Arzegnano, dice Anna Fabrello, non è stato un avvio semplice a livello di stagione. Questa sera hai anche ricevuto qualche coro contro dai tuoi ex tifosi. Come la stai vivendo? E poi è un'altra domanda che in realtà hai già risposto, però ti chiede, questa vittoria può essere un po' un punto di svolta? A me, queste cose fanno parte del calcio. Ci sa che mento se dico che era una partita come le altre, perché io, essendo da ex, sai, vuoi far ricredere magari delle persone che durante l'anno ti sono venute contro per come giocavi o altro. Quindi ci tenevo particolarmente a far bene in questo stadio e far vedere magari ai tifosi che mi hanno criticato durante l'anno, che fa parte ovviamente del calcio, ci tenevo a far vedere che si sbagliavano, che non sono il giocatore magari che pensano. Però io accetto quello che succede in campo nei 90 minuti, sono liberi di dirmi qualsiasi cosa, lo accetto perché il tifoso è così e io non, cioè, fa parte del gioco, fa parte del nostro sport, fa parte del nostro mestiere, quindi è giusto che loro si sfoghino magari in questi 90 minuti che vengono allo stadio e che se mi vogliono insultare mi insultino, ma per me da un orecchio mi entra e dall'altro mi esce. Però è anche, tra virgolette, bello, perché fa parte dello sport che faccio, della nostra passione, quindi sono cose che uno ci deve sorbolare sopra e poi finiscono nei 90 minuti, non è che quello che succede in campo succede in campo, quello che dicono, che magari fanno dei cori, eccetera, finisce in campo, non è che lo porto fuori, non è che c'ho rancore nei loro confronti, ma fa parte del nostro sport e fa parte del calcio. Cioè, se ci penso sorrido e basta. Può quindi, riprendendo l'ultima domanda del giornale, Alessio, questa vittoria essere un punto di svolta per voi? Spero, spero veramente che lo sia, perché oggi, sia dalla partita col Vicenza che non abbiamo portato punti, però ho visto veramente una squadra che cercava di aiutarsi l'uno con l'altro, come ci chiede il mister, e oggi veramente in campo sentivo l'appoggio di tutti quanti i miei compagni, sia quelli che hanno giocato, sia quelli che sono entrati, sia quelli che non sono entrati ma che hanno la possibilità più avanti di dare un aiuto al gruppo e di dare una mano alla squadra, perché tutti siamo importanti, tutti siamo titolari, appunto come ci dice il mister, i cambi cambiano appunto la partita e le dinamiche all'interno del campo da gioco. è importante, quindi siamo diventati veramente molto uniti in campo, ognuno cerca di dare una mano, sia a livello con una parola, con un gesto, con un applauso per una cosa che sbaglia o meno, perché se dobbiamo raggiungere l'obiettivo della salvezza dobbiamo tutti quanti remare dalla stessa parte, aiutarci, incoraggiarci, capita di sbagliare, un sabato, una domenica io magari posso sbagliare un gol, un difensore sbaglia una marcatura, però ci dobbiamo aiutare tutti quanti insieme per appunto raggiungere l'obiettivo della salvezza. Proprio con la squadra voglio chiudere, Alessio, appunto è stata una partita di squadra, vinta da squadra in ogni reparto appunto, da gruppo, come hai raccontato tu. Quando sei arrivato, torno un po' indietro, quando sei arrivato in ritiro, ti sei raccontato attraverso delle parole, riprendiamo un po' come tradizione, la parola per chiudere la partita di oggi, per raccontarla, per dare appunto anche l'avvio alla nuova settimana, cioè come racconteresti l'undicesima giornata in una parola? Una parola, emozioni, cioè è stata un'emozione, un'emozione ritornare in questo campo dove ho fatto un anno, un anno bello dove sono stato legato con i miei compagni che appunto oggi ci ho giocato contro, sono stato veramente bene qui con loro, veramente voglio bene a ogni compagno, ogni compagno mi ha dato una cosa e sono stato veramente felice di rincontrarli, di ritrovarli, di salutarli. Poi è stata anche un'emozione ritornare qui in questo stadio dove magari hai dei flash, delle cose che sono state belle o meno, ma che fanno sempre un bagaglio di esperienza che ti porti dietro. E poi niente, è stata una bella emozione ritornare qui in questo stadio, affrontare i miei ex compagni e magari togliermi un zassolino dalla scarpa appunto con questa vittoria e con il gol, ritornare a casa con tre punti, avere forza per affrontare le prossime partite e dobbiamo ripartire da qui. È giusto che questa sera quando torniamo a casa ce la godiamo, però da domani iniziano gli allenamenti e quindi affrontiamo appunto la partita di martedì però con una consapevolezza e una compattezza di gruppo che ci serviva e ci mancava. Appunto sono molto contento. A te e a tutta la squadra complimenti, ringraziamo di cuore il nostro attaccante Alessio Nepi.